Facendo un paragone col ciclismo, questa è una volata lunghissima. Sarà una grande campagna elettorale. Abbiamo William Di Marco che è una straordinaria persona che saprà assolutamente interpretare una politica di rinnovamento nello spirito che questa città si attende ormai da anni. C'è tanto programma, abbiamo aperto le interlocuzioni con gli ordini, le professioni, le categorie, il terzo settore, la cultura e il turismo. Non a caso questa sera sarà presente il ministro del turismo Massimo Garavaglia che chiaramente con noi si confronterà su alcuni temi importanti per Roseto, incontrerà operatori del settore e chiaramente anche come governo faremo la nostra parte. Il centrodestra ha già candidato William Di Marco e la situazione è chiara. Dall'altra parte ci sono dei nomi, ci sono i nomi, però forse qualcuno ancora non scopre definitivamente le sue carte. La pensa anche lei così? È possibile, però sinceramente poco mi appassiona, nel senso che noi abbiamo un progetto importante che abbiamo costruito in gran silenzio, non rispondendo neanche ad una serie di provocazioni che pure ci sono state nel dibattito politico delle ultime settimane sul Roseto e chiaramente dobbiamo impegnarci al meglio per coinvolgere tutti gli attori in campo della città di Roseto e soprattutto spiegare nei minimi dettagli fino all'ultima contrada quella che è l'idea, la visione della città nuova che William Di Marco vuole realizzare. Non ci sono amministrative in capoluoghi di provincia, quella di Roseto è un'elezione importante, qual è l'altra che la appassiona di più in Abruzzo? Ma guardi, tutti e 72 perché sin dal più piccolo dei comuni a quello più grande è chiaramente sempre una sfida. La Lega ha l'onore e l'onere di recitare la parte da protagonista all'interno della coalizione in tutte le competizioni elettorali, lo faremo con la stessa determinazione, passione e serietà con la quale abbiamo affrontato altre sfide. Grazie.